Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Oggi ho deciso di farmi una bella passeggiata qui a Puerto del Carmen anche perché fa caldissimo, è il 17 novembre, sono le 5 e mezza del pomeriggio e vi posso dire che ci sono ancora ben 30 gradi. Come diciamo sempre ragazzi nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto cliccate sul pulsante iscriviti, attivate la campanella così da non perdervi nessuno dei nostri video. Io sono pronta per partire quindi metto bene la mascherina sul viso che ricordo a tutti è obbligatoria e sono pronta per la mia passeggiata ma prima come sempre vi devo lasciare alla nostra sigla! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!